Si sono aperte le porte del carcere di Ariano per un uomo accusato di atti persecutori. Lo stalker è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Mirabella e Clano. L'uomo, già sottoposto in precedenza a una misura alternativa alla detenzione, in alcune occasioni ha violato le prescrizioni imposte gli a tutela delle vittime. Da qui l'ordine di carcerazione. Sorpreso con 3 grammi di cocaina suddivisi in buste termosaldate, i carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno denunciato un trentenne del posto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato alla guida della sua autovettura durante un servizio perlustrativo dei carabinieri nell'ambito delle operazioni a contrasto e repressione di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro e per il trentenne è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Avellino. I carabinieri della stazione di Mercogliano hanno denunciato un quarantenne ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. Da indagini svolte i carabinieri hanno accertato che presso l'abitazione in uso dell'uomo era stato effettuato un allaccio abusivo bypassando il contatore dell'energia elettrica e collegando l'impianto domestico direttamente alla rete dell'esercizio commerciale ubicato nello stesso stabile al fine di eludere il pagamento delle bollette. Per il quarantenne dunque è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto aggravato.